Il giudizio duro del Dipartimento Funzione Pubblica del Ministero per la Pubblica Amministrazione sulla comunicazione via internet del Consiglio regionale della Campania rischia di appannare il gran lavoro prodotto finora da Caldoro e dalla sua giunta per rimoralizzare la politica regionale. Lo sforzo di ricostruzione rischia infatti di scivolare sulla scarsa trasparenza del sito internet del Consiglio regionale della Campania che adonta dei 3 milioni di euro investiti per la sua ristrutturazione è giudicato invece obsoleto e malfunzionante con link che spesso rimandano a pagine vuote, carente sulle informazioni, sulle retribuzioni e le spese dei consiglieri. Impreciso nel link alla parola trasparenza che non rinverebbe alle notizie che il cittadino si aspetta. Il fatto sta che il bollettino trasparenza del Dipartimento Funzione Pubblica contrassegna con le faccine quasi tutte in rosso gli esiti degli indicatori e colloca la regione Campania al terzo ultimo posto nella classifica delle regioni con 7 indicatori positivi su 41 ed una percentuale bassa del 17% seguita, e questa è una sorpresa, da Emilia Romagna e Trentino Alto Adige che chiudono la classifica e con in testa, e questa è un'altra sorpresa, dalla Sardegna con 25 indicatori positivi su 41 ed il 60 e 98% di trasparenza. È evidente che al Consiglio regionale della Campania gli addetti ai contenuti del sito debbano darsi più velocità nell'aggiornare i dati, la cui pubblicizzazione è peraltro richiesta da un decreto del governo e da una legge che ha fatto la stessa regione Campania. più tempismo quindi per scalare una classifica dove possiamo anche essere i primi della classe.